Ciao a tutti amiche del blog e ben ritrovate! Oggi faremo la Yoga Halle! Questa è la prima posizione, ora la facciamo per cosi, allora iniziamo, vai dammi, dammi la mano, un'altra mano, non funziona! Oggi proviamoci, dammi la mano, dammi la mano, mettiamo, aspetta, un'altra mano, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ieee! La seconda posizione è questa qui, e ora lo andremo a fare, mani in alto piede, ce l'ho E' andata, dai! Allora, proviamo, prima col tempo, aspetta, vai a poco, aspetta! Dio! Ho fatto, yeah! La questione che andremo a fare sarà questa. Allora, io mi metto sotto e mi metto... Oh, no, 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 no. Oh, fra, vai tu dentro, te lo faccio sempre dentro. E così? No, sempre il telefono. No! Lo siamo? No, 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 no. E la quarta posizione... La quarta posizione... E che andremo a fare? E... Quella lì. Questa qui. Complicato. Complicato. Aspetta, vai giù. Aspetta. No, vai giù. No, 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 no. E facciamo la seduta. Forza. Lo so. Aspetta, no, vengi nozio. Questa è. È più facile alzarci così. Allora, vai giù. Allora, vai. Allora, vai. Alza. Come è successo dal dare se andiamo verso te? Ahahah. Dai, dai, muoviti. Che cacchio fai? Vai. No, è vero. Arrangelo nel tuo padre. Alzati. Ok, vai. Se l'abbiamo fatta. Per quel qualche secolo... Per quel calcio... Per quel calcio... Facciamo. Per quel calcio... Tini forte! Siediti. Ma non ci riusciamo. È andata. È andata. Questa qui. È andata. no scusate che vale aspetta, scusa ti devi poggiare sulle gambe la quinta posizione che andremo a fare è questa e ora la andiamo a fare e allora aspetta, prova così che stai a fare? mi svegli col culo attenti braccia e abbassiamoci sono un genio sono un genio quindi l'altra posizione che andremo a fare sarà questa vai più dietro con le gambe tieni tieni aspetta vai 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 sei secondi il nostro saluto yoga che correbbe vabbè lo facciamo che ve lo faremo per un secondo ve lo ve lo facciamo facciamolo in diamantale che abbiamo più spazio di là di andare allontaniamoci ok ciao 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 Grazie.